Amici, come avrete letto dal titolo, ho intenzione di fare una serie, chiamiamola serie tra virgolette, nella quale esplorerò i vostri mondi di Minecraft, sia su Play 4, molto più probabilmente, ma anche volendo su PC, in caso inviatemi la richiesta di amicizia, e appunto una volta esplorati magari ci faccio il video e poi in caso ne metterò uno a video o magari due a video, dipende, non lo so. Fatto sta che esplorerò i vostri mondi, quindi signori se anche voi volete che vi esplori diciamo il mondo e potete finire in un video, vi invito ad entrare nel server Discord, il link è in descrizione, siamo già tipo in tantissimi, siamo quasi 100 credo, non lo so, siamo in tantissimi, e appunto quando mi va di fare il video nel quale esploro il vostro mondo, lo scriverò nel server Discord e poi appunto vedrò chi estrarre per fare questa cosa. Però ovviamente per farlo dovrete entrare nel server Discord e quindi link in descrizione, per chi non sapesse cosa fosse Discord, beh, semplicemente è una figata totale, vi invito ad entrare e si può giocare anche a Pokémon. Ma amici dopo questa letteralmente lunghissima intro, nuovo video delle Bedwars e sapete qual è la novità, ho collegato il pad al PC e quindi oggi sbam che spacchiamo tutti e vinciamo le Bedwars, finalmente, perché col pad sono un fenomeno, non è vero, faccio schifo però, però meglio di quando uso la tastiera. EPS, dato che ormai è diventato un caso nazionale, non mi sono ancora arrivata le cuffie, dannazione, ma iniziamo. Voi non avete idea di quanto è bello giocare col pad, in questo caso della PS4, ma potete collegare anche lo Steam Controller e soprattutto quello dell'Xbox, alle Bedwars, cioè è una cosa bellissima. Quindi io direi di andare per ora nelle solo, oh mio Dio quant'è scura, no, non voglio la mappa scura. Oh, non facciamo errori, perché qui, capito no? Cioè poi uno, poi dice e fa che, eh, eh. Tra l'altro mi avete dato dei consigli giustissimi, tutti ottimi, che seguirò in questo video. E tipo il primo consiglio era, oh zii, barricati bene il letto, lì è caduto un tipo, l'ho chiaramente visto, infatti il tipo viola. Quindi di barricarci bene il letto, perché poi la gente ci fa gli attentati e diciamo che potrebbe finire in tragedia. Volevo comprare della lana, però, cos'è successo? Perché è vuoto? Ah, è qua. Ma per cosa, che succede? Vabbè, lasciamo perdere. Oh, c'è un tizio, ecco, lo sapevo che mi son perso in stupidata e mi son, eh, vabbè, tizio, rip. Son morto, lo so, lo so, va bene, son morto, ok, questa prima, ok, ok, ci può stare, ci può stare, ero molto, diciamo, dovevo prendere. Non è vero, ho fatto semplicemente schifo, ma vabbè, picchiamo sto tizio, va, dai, muoricci, eh, infatti, perfetto. Questa prima partita molto probabilmente è andata a bici, come la lana, che non trovo più, ma fa niente. Ci prendiamo una spada potenziata, salta gli in testa e muori, vabbè, si è morti, chiaramente si è morti, chiaramente, però, però, oddio che cos'è, un uff, oddio che cos'è? Ah, è la bussola, ma che cacchio, vabbè, allora, quindi questa era tipo una prima prova un po' scraugetta, però ne voglio fare assolutamente un'altra, e soprattutto, ora che ho preso confidenza con il joystick al computer, possiamo vincerle, si spera, però possiamo vincerle, forse. Appunto, mi avete detto, tipo la tattica, non lo so, per esempio, di andare verso il centro e prendere i diamanti, poi o gli smeraldi, in caso, comunque fatto sta, prendere le robe potenti, però mi ha lasciato un po' spiazzato il fatto che la lana era tipo morta, non sapevo dove fosse andata, però dai, confido in questa partita, anche se manca un giocatore, quindi attenderemo. Ok, iniziamo, perfetto, ci prendiamo sempre le solite cose, sempre la solita, ma vedete, ma perché è scappata? Ma ragazzi, ma stiamo scherziamo? Perché è morta per sempre la lana? Cioè, che cos'è sta storia? Vi prego, vi scongiuro di scrivermelo nei commenti, perché sono abbastanza spiazzato, tra l'altro abbiamo anche il colore bianco, stravello, Però, quanto costa la spada di iron? 7 di gold, ok, quindi diciamo che aspettiamo, sì, perché prima converrebbe prendere questi, sempre chiudiamo il lettino, e niente, io direi di aspettare un attimo, ovviamente so che dovrei andare al centro, però per il momento voglio prendermi almeno la spada di iron, E poi volendo, ah, possiamo pushare il tizio, interessante, e tra, uh, il team giallo è già morto? Ok, allora, 5 di, dai, dacci un po' di più di roba, Ok, abbiamo 7 di gold, che spreco, cioè spreco, tra virgolette, investo subito, ok, ottimo così, lì c'è un tizio, vai, carichissimi, andiamo addosso, gli andiamo addosso e gli prendiamo pure il letto, e pure la vita, ma prima il letto, o almeno si spera, non ho molta armatura, è vero, però il tizio non è in the house, quindi magari, 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 se siamo quatti come gatti, tra l'altro si stanno picchiando come dei fabri, C'è il team giallo e il team, come si chiama, grey, che si stanno picchiando come dei fabri, cioè che sono già morti, salve, Che stia per partire un fight? Eh? Dall'alto? Ti vengo addosso dall'alto assassin, dall'alto, assassin creed? Ok, ok, ci hanno distrutto il letto, perfetto, bene, bene, No, questo è un maiale, questo è un maiale, questo è un maiale, eh, qual è il piano? Che situazione farraginosa, eh? Dai, ci hanno distrutto il letto, Perché deve finire sempre in 3G? Ok, nella mia testa non è successo niente, ma in realtà è successo un bel pasticcio, Ma attacca, 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 non ce la farò mai, non ce la farò mai, ma guarda, cioè, ma sapete che mi sta sulle palle sta cosa? Sulle palle? Che io non riesco a colpirli, cioè, perché? Cioè, io spammo e non li riesco a colpire, loro spammano e tipo mi fanno un miliardo di danni, O comunque nelle Bedwars sono scarsissimo, cioè, non, boh, non lo so, non mi trovo nelle Bedwars, ma non so perché, ho anche il joystick, Dai, che palle, boh, vi giuro non ce la farò mai, il giorno in cui vincerò le Bedwars, non lo so, tipo esploderà il mondo, non lo so, morirà la regina Elisabetta, Sì, ma io mi sa che a sto punto non copro neanche il letto, cioè, io vado subito a prendere i diamanti, mi prendo prima ovviamente la lana, un bel po' di lana, E poi, dopo essermi dato la sistematina vincente, più o meno, mi vado a prendere i diamanti, sperando che non ci puscino, cioè, proprio lo spero con tutto il cuore che non ci puscino, Allora, le giole dei diamanti ci siamo, il letto è salvo, quanti diamanti sono? Tre, uh, quanto manca? Venti secondi, Secondi, allora, stiamo così, però voglio dare un'occhiatina al letto, lo tengo d'occhio dalla distanza, va là, tipo come fanno le mamme coi bambini al parco che li tengono d'occhio da distanza, ecco, tu sei il mio bambino, piccolo letto, Abbiamo distrutto quello, ok, del pink, perfetto, dai, quanto manca? Un secondo, su, 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 ok, quattro diamonds in the sky per noi, piccola citazione, una canzone alquanto vecchia e alquanto incredibile, E direi di investire questi nostri diamanti, tipo, vediamo le spade, smeraldi, diamanti, diamanti, mmm, cosa ci possiamo prendere con i diamanti? Dannazione! Le ho sprecati, non ci credo, le ho sprecati, ah, però, vabbè, no, ci facciamo la spada d'iron, ok, dai, pensavo di aver preso qualcosa di strano, invece, che pollo, che pollo! Allora, vediamo come stanno messi gli altri, male, molto male, però noi abbiamo ancora lì i diamanti, ci possiamo e vogliamo soprattutto prendere questi, Li abbiamo presi? Oh, 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 cosa lancivi? No, ha lanciato via la spada, non ci credo, non ci credo, ha lanciato via la spada, ah, l'ho ripresa, Cioè, io andrei lì dagli smeraldi, eh, perché sono molto succulenti e invitanti, però, so stralontani, cioè, convengono, convengono secondo voi, Abbiamo altri tre diamanti, mi sa che mi potenzia anche l'armatura, tanto di fisso, al primo fight, arriva un tipo e sbrem che ci taglia le mani con la sua spada, O anche col bastone, perché il bastone con sharpness è, tipo, fortissimo, quindi mi potenzierai l'armatura, a posto, ma basta lanciare la spada! Oh, perché lancia la spada? No, no, ridammi la mia spada, secondo me ho impostato qualche tasto strano che mi lancia le cose, fatto sta che mi voglio, ah, l'arco, mmm, costa 12 di gold, Vabbè, comunque, io mi prendo sti cosini, esatto, mi sono potenziato l'armatura, buono, dai, siamo messi benissimo, non possiamo dire di no, Quanto sarebbe bello prendere quegli smeraldi, quanto sarebbe bello! Allora, qui si sono picchiatissimi, il pink però è ancora vivo, mmm, perché c'era in terra la mia spada di iron? Dai, oh mio Dio, perché la lancia ogni tanto? Stupido joystick attaccato alla play! No, in realtà sei utilissimo, però stupido joystick! Allora, me ne sto un attimo qui a farmarmi un altro diamante, così mi ripotenzio l'armatura, Claim your reward in the lobby, ah, si è salito di livello, figo! Allora, scrivetemi nei commenti come investire al meglio i diamanti, perché io per ora lo sto facendo tipo per l'armatura e quelle cose lì, Però magari c'è un modo migliore, non lo so, ora, ditemelo voi che di sicuro siete più esperti di me e mi ripotenzio l'armatura con Protection 4, figata! Che figata, siamo straforti, siamo fortissimi! Boh, a sto punto, signori, andiamo a prenderci gli smeraldi, le abbiamo provate tutte, mancano solo gli smeraldi, volendo mi prendo pure... No, non ci credo, ci han distrutto il letto, ecco, guarda come ci picchia, guarda come ci picchia, io non lo posso toccare! Non ha senso, non ha assolutamente senso come cosa! Cioè, lui mi picchia e io non lo posso toccare! Vi giuro che non capisco sta cosa, fa vedere quanti smeraldi c'erano! Fide, un botto! Basta, sto per quittare dalla vita, ve lo giuro, quitto assolutamente, perché non ho idea di come loro ci violentino e io non riesco a... Vabbè, signori, il video è durato abbastanza per farmi schizzare malissimo, perché se dovessi fare un'altra partita mi metterei a piangere, perché non riesco a fare niente nelle Bedwars, sono tipo scarsissimo! Quindi, vi rinnovo l'invito di guardare nel server Discord, così almeno posso magari esplorare i vostri mondi! Io vi ringrazio per la visione, dannate Bedwars e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 2.45, con un nuovo video! Ciao! Faccio schifo e non poco!